Buonasera amici, è scoccata la mezzanotte e io vi faccio tanti auguri di buon Natale con tutto il cuore perché vi voglio bene un bacione a tutti e sempre forzano, lo voglio perché tutto resta in munizia non mi sto facendo sentire per un po' di suspense però a breve mi rivedrete di nuovo qua, lo spero un bacione di nuovo e sempre forzano, lo voglio perché tutto resta in munizia auguri a voi e alle vostre famiglie, con vero cuore vi voglio bene un bacione, ciao